5, 4, 9, 10 Rodolfo Giampieri, presidente dell'autorità portuale di sistema del mare Adriatico centrale è diventata una passione presidente nominare i nomi delle autoriti in campo nazionale la sua authority presidente fa parte del progetto Adriap che sarebbe l'Adriatic Mosup Grate Service Cos'è questo progetto The Up? Quali regioni prende e a cosa si rivolge? Diciamo che è un progetto ambizioso che in qualche modo studia la possibilità della intermodalità che è uno dei temi importanti oggi emergenti ma soprattutto della competitività di ogni azienda e di ogni porto e le autostrade del mare, un altro dei temi fondamentali nel riuscire a decongestionare le nostre strade e autostrade ma soprattutto muoverci con una dimensione diversa, più moderna, più internazionale. Sono parecchie i porti che fanno parte di questo progetto, Igumenisa e Capofila per cui la Grecia diventa Capofila insieme al porto di Ancona, di Trieste, l'interporto di Trieste, il RAM, Rete Autostrade Mediterranea, la regione greca dell'Epiro e in definitiva su questi temi, con queste tematiche, un gruppo anche articolato, anche disomogeneo ma che comunque parla dell'economia del mare si è ritrovato all'interno di un progetto. Senti Presidente, lei ha parlato di autostrade del mare, naturalmente oggi va molto di moda e stanno andando veramente forte in tanti porti italiani. Il porto di Ancona, Presidente, ha già aree attrezzate per soddisfare le esigenze o ci sono anche dei programmi futuri di ampliamento? Programmi di ampliamento ci sono perché poi oggi il dramma dei porti urbani, cioè porti che sono dentro le città, il dramma è proprio quello legato agli spazi. Ci sono opportunità di ampliamento, stiamo recuperando zone che sono dismesse, per cui utili per i traffici moderni, ma la logistica del traffico moderno, per cui ce la stiamo mettendo tutta per dare risposte concrete, per essere uno dei caselli dell'autostrada del mare adriatico. Senti Presidente, non ci sono autostrade del mare se non ci sono collegamenti ferroviari. Nel progetto Adriap si prevede anche il miglioramento di queste strutture, dei binari, diciamo così. C'è un finanziamento di 1,7 milioni di cori 845 stabiliti dall'Unione Europea. Cosa ci fa con questi soldi? Ci facciamo progettazione seria, progettazione legata una parte a una penisola che in qualche modo dovrà essere l'elemento di grande novità di questo porto, col quale colleghiamo e spostiamo traghetti e traffico dal centro urbano nella sempre più periferia distante del nostro porto. Per cui credo che siano elementi molto importanti per entrare soprattutto nella mentalità e nella dimensione della necessità, che oggi questi sono gli elementi della competitività moderna. Ferrobonus è uno dei grandi temi che il Ministro del Rio ha sollevato e ha messo in campo con decisione. Marebonus è un altro dei grandi temi, cioè c'è volontà finalmente che dalle parole si passi ai fatti. Un ultimo flash presente riguarda i traffici. Da dove vengono su Ancona? Dall'est europeo, dalle parti italiane, vanno in Grecia, in Albania? I traffici sono soprattutto con i paesi balcanici. Siamo il terminale e la porta d'entrata ed uscita del traffico con la Grecia, con la Croazia e con l'Albania. Abbiamo visto dai nostri studi che questi traffici poi comunque arrivano o vanno verso il centro Europa. Per cui la rete TNT, delle caratterizzazioni e delle caratteristiche forti del nostro territorio e del nostro porto, è centrata. È vero proprio che i nostri traffici vanno nel cuore dell'Europa e arrivano dal cuore dell'Europa per andare verso i paesi balcanici.